Bielmonte si conferma la stagione scistica a misura di bambini e di famiglie, tappetini per i principianti con i maestri delle scuole di sci Bielmonte, Oasi Zegna e Montemarca e poi ancora il Parco Giochi al Piazzale 1. Dunque ancora una volta Bielmonte si conferma una località invernale adatta proprio alle famiglie. L'avvio di stagione è stato positivo anche grazie alla neve caduta all'inizio di dicembre che ha permesso di fare una buona base alle piste. Intanto di notte si continua a utilizzare l'innevamento per mantenere al meglio il manto nevoso. In questo avvio di stagione si è anche vista gente nuova a Bielmonte. Abbiamo avuto gruppi o famiglie che sono arrivati per la prima volta da noi, sottolinea Giampiero Orleoni, responsabile dell'impianto. Oltre alla neve anche le tariffe poi sono concorrenziali e fanno la differenza. Rispetto alle altre realtà, ancora sottolinea Orleoni, siamo riusciti a mantenere i costi degli ski pass contenuti e a disposizione ci sono numerosi sconti per chi, per esempio, scia con il proprio figlio o la propria figlia. Anche questo incentiva l'arrivo delle famiglie. E apre anche la pista del ghiaccio all'interno del palazzetto dello sport, completando in questo modo l'offerta turistica del territorio. Intanto giovedì 6 gennaio, doppio alla fiaccolata dei bambini, apertura speciale dello sci sotto le stelle. Orario d'apertura 18.30, 21.15. La prenotazione è gratuita, lo ski pass sarà da acquistare alle casse la sera dell'evento. Grazie. Grazie.